La giunta regionale ha approvato il nuovo bando per gli assegni di cura per malati gravi, ridotto notevolmente il budget e previste molte più restrizioni, il che ha scatenato diverse reazioni, tra cui quella di Andrea De Silvio, responsabile del sindacato Sfida. Vediamo. E ormai prossimo il nuovo bando per gli assegni di cura per i malati gravi. Le premesse non sono delle più rose, è un bando molto più selettivo rispetto chiaramente a quello precedente. Sì, certamente. Anche perché il vecchio bando, gli eventi diritti sono stati 5.145 contro i 2.300 che saranno gli eventi diritto del nuovo bando. Quindi diciamo che è molto restrittivo perché pazienti gravissimi che sono stati valutati pochi mesi fa, oggi per le Aslon dovrebbero essere più gravissimi. Quindi andiamo a penalizzare notevolmente le famiglie. Poi a questo bando ci sarà anche la rendicontazione, quindi ridotta la somma da 1.900 euro con la rendicontazione che comporterà delle spese per le famiglie. Quindi la rendicontazione prevede una posizione assicurativa e una posizione contributiva. Quindi diciamo che metà di quella cifra che la Regione darà ai disabili gravissimi sarà assorbita da questa contribuzione. Quindi ai disabili rimarrà ben poco. Poi diciamo che ci sono anche altre situazioni. Qua parliamo di disabilità grave. Quindi grave significa allettati, collegati ai macchinari e chi non è allettato e non è collegato ai macchinari però ha zero autonomie, è seduto a un carrozzino e dipende in toto dagli altri. Che cosa succederà rimarrà fuori? Questo non è certamente corretto. Poi c'è da fare un'altra premessa. La Regione ci rinfaccia agli incontri che abbiamo ai tavoli che in Puglia abbiamo il triplo dei disabili gravissimi di altre Regioni. Come se la colpa è nostra. I disabili gravissimi sono stati valutati dagli specialisti della ASL. Quindi sono loro che hanno attribuito una disabilità grave a 5.145 pazienti. Quindi sembra, mentre la ASL vuol far cadere queste colpe sui disabili, come se è colpa nostra che ci sono così tanti disabili in Puglia. Purtroppo ci sono, li hanno valutati, li hanno riconosciuti tali, quindi alla fine devono in qualche modo venire incontro alle esigenze di queste famiglie. Partiamo dal presupposto che questi tagli sono dovuti a un abbattimento notevole del budget rispetto allo scorso anno. Ma come vi muoverete voi come associazioni al tavolo appunto per contrastare tra virgolette questo bando? Sicuramente noi faremo un presidio permanente sotto la Regione, quindi ci faremo sentire dappertutto. Perché non possiamo rimanere impassibili a questa ingiustizia.